You only call me on the weekends, when you're riding about, only chasing as you need me, he brings me flowers on a Tuesday Buongiorno ragazzi, aspettate se sono a fuoco, ok, si Benvenuti, mio nuovo, cosa mangio in un giorno insieme edizione per l'estate Visto che ogni volta ragazzi mi dite sempre, ah non ti vorrei fare il tuo stile di vita, vorrei cambiare un pochettino l'alimentazione Vorrei togliere un po' alcuni alimenti a favore di altri, ma non ci riesco In questo video facciamo teoria e la pratica, quindi colazione insieme, iniziamo con la frutta Oggi non mi andava di fare l'avena, frullati, porridge eccetera, avevo proprio voglia di questo bel vassoietto che vedete benissimo di frutta E quindi mangiamo insieme e ci facciamo compagnia, or dunque io parto dal melone Faccio melone, io non vado a combinazioni di frutta eccetera Io la frutta specie con l'estiva, me la godo proprio senza timore Lo scopo è farvi venire voglia di mangiare la frutta, e sta a venire voglia Ti sargo qua sotto, amore se ti sgocciola il melone è normale L'ingegnere è partito pure oggi per Roma Quindi Io mi sono detto a quale migliore occasione di fare il video con le ragazze Limoncino con il mio nuovo pigiamino E ci metto sempre il limone perché mi piace spruzzarlo sopra Non la mangiunta Oddio Io con la pesca ci faccio pure il mega insalatone La griglio Ve la metto in insalata Spettacolo La bigocchina E' buona C'è pure il cogomero Qua quale me lo mangio dopo Di solito ci metto pure lo yogurt Oppure se vado di fretta Frullo Se ne ho magari fatto solamente un tipo di frutta di polmelone Quella più dolce di solito E me la porto via Come l'anno scorso con i frugitelli Voila Stavo venire voglia di frutta Di frullato Io penso di sì Che buona Ci vediamo dopo Direttamente per il pranzo Oh Eccoci qui con il pranzetto Allora pensavo Una mega 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 insalatone Questo qua è il songino Poi volevo fare Il cetriolo con la salsina Con lo yogurt di soia Eccolo Poi avvocato Che mi chiedete sempre Anto come fai a trovare quelli maturi In realtà Io li prendo sempre alle idee Che secondo me sono i migliori Però se girate bene per i supermercati Trovate questo qua Che si chiama ready to eat Che praticamente è maturo al punto giusto Quindi con questo qui Non vi sbagliate Lo Sono sempre maturi Veramente al punto giusto Quindi se ci avete voglia Quella sera di avvocato Lo prendete Ed è sicuramente pronto Buonissimo Eccolo qui il pranzetto Super velocissimo Rapidissimo Super fresco Tra l'altro Quindi insalatona Avvocato Hummus di ceci I pomodori Tipo caprese Fatto appunto Con lo yogurtino mio E cetrioli E sotto appunto Questa mega insalatona Freschissima E buonissima E quindi Buon appetito a tutti Mi amo Mio dio Posso affondare I miei denti a guzzi In questo piatto meraviglioso Sì Ciao Yes Ci siamo Cari fanciulle Cari fanciulle Eccoci qui Per il nostro mitico Pranzetto time Allora Da che cosa iniziamo? La salsina Già ce l'ho messa Mi metto un altro po' Non si sa mai Ok Pucciamo il cetriolo? No Avventiamo il nostro avocado Mio dio Sopre cadere Mmm Mmm Una mia Mmm 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 Ciao Qui anche I crauti Questi qui buonissimi Fermentati Ho trovato il pacchettone Enorme Guardate un po' che bello Mmm 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 Io amo questi l'olio Sono verdure Fermentate Buonissime Allora Mmm Mmm Mio 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 Mi dite sempre Mi chiedete Anto ma tu non mangi il pane Io ne mangio pochissimo di pane Ma pure la pasta Non è che mi piaccia tanto Non è che mi piaccia tanto Cioè a me non mi piace Non ci faccio tantissimo Cioè Se voi assaggiate i cetrioli così Pucciati dentro All'hummus E poi lo mangiate col pane Di tanto ne c'è ragione Il pane Cioè Finché parliamo di una bruschetta Sì Col pomodoro è buonissimo Ma con tutti questi sapori Che sono buoni Di loro Ruba il sapore Secondo me Mmm 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 E pure da piccola Da piccola dovete sapere Che io mangiavo tonnellate Di salame milano C'era Salame milano Il salame ungherese Però Quello ungherese alla pava E compravo sempre il salame milano Andrò proprio all'elementare Siccome io sono sempre stata una De buona porchetta Ma è una gioia E poi mi dice Oh Cioè devi mangiare pane col salame Perché se no finisci L'intenzione è proprio quella Caro papo Mmm Non c'hai paura che tu Che tu lo mani Eh c'ha paura Quindi io il pane non ho mai mangiato Cioè Pugnissimo Rifrisco questo L'ingegnere invece A bocadino E appunto il gesto Che mangi i filoni Mmm Pacevole un attimo a farlo Ah Riccola Questo del salame è pure la mortazza Alzavo la quantina Prima di tutti Pacevo degli alimentari Per la mia salitona Verso il mio Alimentare di fiducia Perché non la compravo Da nessun'altra parte La mortazza con la pizza Bianca Mmm Mi facevo spacca Adesso 500 lire Di pizza bianca 9 kg di mortazza E quella è la mia colazione Per questo non so proprio abituata Né allo yogurt Né al latte Lo yogurt e il latte Mi facevano malissimo Quando ero piccola Quando mi dava Mamma no Mi dava Mi dava Mi dava Andava al bagno Subito Dopo anni 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 Del cacarelle La madre mi ha portata Dal dottore Dicendo ma La ragazzina Un po' a bere Ma ci stavo le ore In bagno Subito dopo il latte Mi faceva proprio malissimo Proprio i grampi Tutto E dico ma Questo non basta A capire che forza Non è per me Questo alimento No No Dopo anni e anni Del cacarelle Visto che siamo In tema con l'humus La portata Dal pediatra Dalla pediatra Questa ragazza Se sta così Era piccoletta Ma c'è ancora In elementare Questa ragazzina Se sta così Vuol dire che Ha la colite spassica La colite spassica Che poi a casa Con mio padre La colite spassica È diventata La spassica Con la colite Vabbè Ma il mio padre È sempre sbridoso Che buono ragazzi Mamma mia Merendina La voglio fare Con lo yogurt Questo qui Che vi ho fatto Su Instagram Che sto amando Alla follia Soia san Al limone E voglio fare Lo yogurt Frozen Quindi che combino Vado a mettere Lo yogurt Dentro al portaghiaccio Praticamente E metto in congelatore E metto in congelatore Mio dio Mio dio ragazzi Ma cosa non è Cioè Dico ma cosa non è Questo gelatino spettacolare Cosa non è Una meraviglia Stupendo Via Guardate un po' Che meraviglia Mio dio Mio dio Mio dio Fresco Leggero Cioè L'ho voluto provare Con il frullatore Stavolta Perché non tutti Avete Quella macchinetta Che uso io Che si chiama Io Io Nanas Del genere Del genere E quindi Ho detto Vabbè Ora provo col frullatore Visto Un goccetto di latte E viene uno spettacolo Delatone super light Il meditanto Come Come si fanno le amicizie Perché io Ho difficoltà A farmi degli amici A estaurare Delle relazioni Con dei maschi E delle maschie E E ho paura Di restare sola Questa è diciamo La domanda Che mi fate in tante Allora Io penso questo Ragazzi Che Se tutti quanti Smettessimo un pochettino Di darci necessariamente Delle definizioni E Vivessimo Un po' più Leggere Secondo me Non sarebbe male Perché La definizione Di amicizia Voglio beccare A banana tutto La definizione Di amicizia È un qualcosa Che nasce da sé Non è che si va a cercare Uno dice Ah no Perché io Voglio avere gli amici Oppure da domani Inizio Un processo Per fare amicizia Divento più simpatica No Secondo me Il segreto Per avere delle belle persone Vicino Poi che siano amici O meno Questo è un altro discorso È interessarsi agli altri Secondo me Allora Quindi io vado Che ne so Faccio degli esempi Vado dalla parrucchiera Mi faccio una chiacchiera con lei Mi interessa a lei Cosa fa Cosa non fa Sto facendo degli esempi Magari il giorno dopo Ripasso Le offro il caffè Magari la settimana dopo Anche se non devo Riandare per la messa in piega Magari le lascio L'aperitivo pagato Che ne so Io sono una persona Che se incontro Lo sguardo di un'altra Che sia maschio o femmina In generale proprio Mi viene un po' D'accennare il sorriso Non è che So così Però Sono una persona Che ha una faccia Molto serena Ecco Ha delle espressioni serene Per cui È capitato Molte volte Di stare alla fermata Dell'autobus Oppure che ne so In fila al supermercato Inizia a fare una chiacchiera E poi una chiacchiera qui Una chiacchiera là Dove sta E sto lì E poi siamo diventati amici Beh Non è necessariamente Ci sono dei modi Delle tecniche Per farsi degli amici Ok Oppure La paura Di non avere amici Di restare sola No Voi Semplicemente Vivete sereni Ok Non mi fate questi problemi Perché questo proprio Non è un problema E manca una paura Voi vivete sereni Interessatevi alle cose Che fanno gli altri Quando parlano Ascoltateli per davvero No Che può essere la parrucchiera Che può essere il corriere Che può essere Che ne so Qualsiasi altra persona Poi le cose nascono da sole Ragazzi Da sole nascono Una delle mie migliori amiche Era una ragazza Adesso lavora da un'altra parte Che lavorava in pizzeria Io ogni volta andavo Prima di ordinare Ho sempre detto Ciao Come stai No Ma che Ah ok Voglio la pizza Come stai Tutto bene Ah guarda così Io magari che ne so Davo il consiglio Oppure pure a me Mi è capitato Baccia di qua Baccia di là Chiedigli come stai di qua Chiedigli come stai di là Siamo diventati amici Quindi semplicemente Secondo me il segreto È interessarsi agli altri La Roma era amica Di tutti i coreani Le amicizie nascono così ragazzi Con sorriso Con una pacca sulla spalla Perché con quante di voi Ci sono dei rapporti Che vanno oltre youtube Oppure non ci siamo mai incontrate Dal vivo Eh Stasera Cenetta messicana Burrito Pannoschetta Friggitelli E parliamo di un'altra cosa Che mi chiedete sempre Come non prendere in considerazione Ingiudizio degli altri Stava a scappare Pezza di cioccolata La topa Eccolo qui Il piatto finale Qui dentro c'è Il burrito dell'amore Che adesso sono Anna mamma Pannocchietta Ovviamente i friggitelli E sotto ci ho messo Un pochettino di insalata Eccolo qua Via Buona cenetta A tutti Allora Friggitelli Iniziamo da qui ragazzi Da questa meraviglia Quando Addenterete Un friggitello Capirete Che è arrivata l'estate Che buono Mamma mia Mi ho fatto Friggite un po' È venuta La voglia De mangiare oggi Che buona La macchetta Ha messo tutti E lui Qua fuori C'è un po' Inizia Di scodacca Per le farfalline Che buona Potete fare Pure una crema Di guacamole Da mettere sopra Buonissimo Che cenetta Buonissimo Come affrontare Il giudizio Degli altri Allora Nella maggior parte Dei casi Ragazzi Da sempre La gente ama Guardare gli altri E giudicare Sta nella natura Di alcuni individui Ma Quello che Secondo me È l'atteggiamento Giusto In questi casi È di Restare Concentrati Su quello Che voi Avete deciso Di fare Cioè Avete deciso Di fare Una certa cosa A, B e C Non importa Quello che dice La gente I giudizi Degli altri Non vanno Ascoltati Non vanno mai Presi in considerazione Mai Per questo Vi dico È importante Avere delle persone Fidate Che vi possono Dare davvero Il consiglio Giusto Perché Perché Ricordatevi Che la gente In generale Quella che Veramente ama Guardare Giudicare Gli altri Poi dentro Casa loro C'è De tutto E de più Ragazzi Vi giuro De tutto E de più È quel tipo Di persona Che Giudica E vi dà Quel finto Consiglio Che voi Dite Ah vabbè Forse è caso Che lo seguo Oddio Forse c'ha ragione No Perché quel tipo Di persona Non vi darà Mai il consiglio Giusto per voi Ma sempre Solo quello Che fa comodo A loro Chi vi supporta Non mi viene a fare La critica Costruttiva Non esiste La critica Costruttiva Costruttiva Di che Che hanno costruito Ste persone Che parlano Che hanno fatto Lo sapete Ma le persone Che vi vogliono bene Quelle veramente Che vi vogliono bene Non vi vengono a giudicare Non vi vengono a criticare Semmai vi supportano Ma aspettano Che siete voi A dirgli Guarda Ho bisogno di questa cosa Mi dai E il tuo parere Non è che aprono Bocca Gli danno fiato Su che cosa L'importanza Di avere attorno Persone sempre positive Sorridenti È la cosa migliore Perché uno dice Ok io sto facendo Questo progetto È difficile È complicato Che può essere Anche semplicemente La scelta della scuola Il lavoro La famiglia Come gestire i figli Come educarli Il marito Tante cose E avere persone Vicino Positive Non che giudicano Che fanno Ti fanno Affare l'arte Devi fare De qua Scusa se te lo dico Ma i tesori Iniziano sempre così Scusa se te lo dico Non vorrei essere sgarbata Ma allontanatevi Da sta gente Ragazzi Ci saranno due Tre persone Nella vostra vita Forse Perché Di solito Sono anche di meno In grado di potervi Dare un consiglio Perché Una persona Per potervi dare Un consiglio Giusto Quello che fa Al caso vostro Quello Che va bene per voi Non quello che fa comodo Al tizio che ve lo dà Bisogna che un pochettino Vi conosca Cioè che sappia Quanto meno Quali sono i vostri sogni Le cose che vi emozionano Le cose che vi fanno piangere Le cose che vi fanno sorridere Se voi una persona Non sapete niente Come fate A darle un consiglio Come fate Dico sempre anche Che Bisogna essere attenti Pure ai consigli Che La famiglia dà Perché Perché a volte Per il tanto amore Ne avevamo già parlato Su Instagram Per il tanto amore A volte I genitori Possono dare consigli Che so Intrisi De paure Che ne so Mi voglio aprire una pasticceria Io se andassi da mamma Mi direbbe Vai Vai figo Ti vengo a dare una mano Vai Se io dico a papà Ma questo è matto Ma non tanto Tutti quelli che chiudono Ma lui c'ha ragione Non c'ha ragione Però I suoi consigli Quelli per esempio Di papà mio Sono un po' più Che lui è un soggetto Un po' più pauroso Mia mamma invece Un po' più come me Quindi se io ti chiede un consiglio Io gli chiedo A Harry O a mamma A papà è così Tanto per Per farlo opposto Ma come fa lui D'altronde Se non riuscite A superare certe cose Dovete lavorare Su voi stessi Questo è un libro Che io sto consigliando Su Su Instagram Da 800 miliardi di anni Ed è bellissimo Si chiama I quattro accordi L'ho comprato su Amazon I tre accordi seguenti Derivano dal primo Il secondo è Non prendere nulla In modo personale Qualunque cosa accada Intorno a voi Non prendetela personalmente Per usare un esempio Che ho già fatto prima Se ti vedo per strada E dico Sei proprio uno stupido Fa degli esempi Ma va bene Qualsiasi cosa Anche le famose critiche costruttive Che alla fine Quando non conosci manco La persona che la sta a fa Quindi come fa Fa un qualcosa di costruttivo Nella vostra vita Se questa persona Non sa niente Della vostra vita Però sono quelli Che aprono bocca Gli hanno fiato Sei proprio uno stupido Senza neppure conoscerti È evidente Che non sto parlando di te Ma di me Se prendete le mie parole In modo personale Forse crederete di essere stupidi Forse penserete Ma come fa a saperlo È chiaroveggente Oppure il fatto che sono stupido Balza gli occhi di tutti Prendete la mia frase In modo personale Perché siete d'accordo Con ciò che ho detto Appena l'accettate Il veleno passa dentro di voi Intrappolandovi nel sogno infernale Ciò che vi intrappola Si chiama importanza personale Cioè la tendenza A prendere tutto personalmente Ok? Ed è poi continuo È bellissimo Perché dice Se qualcuno vi dice Sei troppo grasso E anche qui è un esempio Non prendete personalmente La sua opinione La verità è che Quella persona Sta affrontando Le proprie emozioni Opinioni E convinzioni Cerca di inviarvi del veleno E se prendete In modo personale Ciò che dice Il veleno passa dentro di voi Prendere le cose in questo modo Vi rende facili I vredde dei maghi neri Possono agganciarvi Con una semplice opinione E farvi inghiottire Il loro veleno Senza sforzo Perché prendendo tutto In modo personale Aprite loro la porta Mangiate tutta La loro spazzatura emotiva Che quindi diventa La vostra spazzatura Ma basta non prendere Nulla in modo personale Per essere immuni Al veleno L'immunità al veleno Nel bel mezzo Dell'inferno È il dono Di questo accordo Ed è bellissimo Ragazzi E sono contenta Di segnalarvela Come lettura E prendetelo Perché è carinissimo Se avete appunto Difficoltà A superare A non prendere in considerazione L'opinione degli altri Questo fa il caso vostro Poi c'è tutta una parte Dell'addomesticamento Che è molto bello Da leggere Perché insomma Mica solo quell'accordo Si fa capire Un sacco di cose Un sacco di cose